Andiamo sulle caratteristiche tecniche principali. Le aste sono le classiche aste come il prodotto da bar, quindi da 1,6 di diametro con spessore da 2,2. Gli omini sono monofusione. È una particolarità molto importante e una qualità dei prodotti Carlando perché gli omini vengono fusi attorno alle aste. Questo prevede che l'omino non abbia la vita al petto e che quindi nel tempo non si vada ad allentare. Un altro vantaggio è quello che l'asta arriverà direttamente con gli omini già montati attorno ad essa. Quindi l'unica cosa da fare è inserire l'asta all'interno dei fori delle sponde che sono già fatte. L'asta non gira sulla sponda per attrito, ma ci sono dei cuscinetti che sono a metà tra la stecca e la sponda. Ve lo farò sentire, vediamo se si sente con l'audio. Quindi la rotazione è nettamente facilitata come nel prodotto da bar.